Buonasera ragazzi, un saluto da Alve Driver, oggi eccoci qui con questa mini accensione di questa mini tastiera da gaming Alleri T9 Plus che costa 37€ su Amazon, comprata su Amazon solo ed esclusivamente su Amazon perché purtroppo non se ne trovano in altri negozi o almeno quando l'ho comprata io. L'ho comprata recentemente e l'ho comprata perché? Perché avevo un computer portatile io ho il computer portatile, non avevo spazio per una tastiera da gaming, una tastiera da gaming completa e allora ho preso questa tastiera, questa mini tastierina che comunque è meccanica, con meccaniche blu ora ricordiamo che le meccaniche blu sono le meccaniche usate per le tastiere meccaniche da scrivere, da scrittura però comunque sono sicuramente superiori a delle tastiere a membrana quindi questa qua comunque rimane un tastierino da gaming meccanico, con delle meccaniche ricordiamolo sempre qua possiamo vedere il design, il design è molto bello poi dopo vi farò vedere anche le varie colorazioni perché questa tastiera è anche RGB infatti ricorda molto come appunto colorazione le tastiere della Razer con i vari led e anche le varie personalizzazioni però ovviamente con un costo molto molto inferiore ecco qua che adesso possiamo sentire il suono dei tasti dal vivo ecco il suono sicuramente un bel suono un bel suono sicuramente tastiera meccanica molto molto bella e con parte alla fine con ingommature per apposare appunto la mano poi una volta accesa, attaccata al computer possiamo vedere come la tastiera parta subito con questa illuminazione RGB che ricorda molto l'effetto croma ricorda molto l'effetto croma delle Razer e tramite appunto un software oppure tramite appunto la tastiera stessa grazie a una combinazione di tasti potremo poi cambiare le varie appunto illuminazioni ora il software si trova dentro la scatola dentro la scatola si trova il disco con il software se no potreste andare tranquillamente sul sito o su internet a cercare il software ora qua possiamo vedere varie colorazioni, varie illuminazioni qua addirittura c'è questo effetto wave molto molto bello e possiamo anche regolare la velocità adesso andremo appunto a regolare la velocità a rallentare questo effetto e come potete vedere sarà molto più lento questa tastiera i tasti che vedete sono soltanto sono tutti estraibili sono questi non sono tantissimi ci sono giochi che hanno bisogno di molti tasti come può essere magari un metro per dire io mi ricordo metro ma anche i tasti magari giochi con delle abilità speciali però comunque tutti i tasti sono programmabili e possono essere appunto anche tolti e sostituiti con altri tasti questa tastiera tra l'altro su Amazon ha il prezzo più basso in assoluto ha il prezzo più basso in assoluto perché 37 euro vi posso garantire per il prezzo che ha è veramente un'ottima tastiera ovviamente una tastiera non completa ovviamente però è pur sempre meccanica qua come potete vedere io posso andare ad agire tramite la tastiera e cambiare proprio tutti i vari settaggi della illuminazione RGB ogni tasto è programmabile anche con un singolo colore e tramite appunto il software spero che questa mini recensione comunque impressione vi sia stata utile per appunto capire se questa tastierino può essere utile oppure no un saluto da Everdriver e a un prossimo video e a un prossimo video